1991 Slovenia e Croazia si dichiarano indipendenti dalla Jugoslavia 1950 le forze nordcoreane iniziano la sanguinosa guerra di Corea 1866 battaglia di Ponte Caffaro, fortunato episodio della terza guerra di indipendenza commenta il fatto del giorno marco tarquinio direttore dell'avvenire indiani d'america in generale in realtà colonnello dai capelli biondi e anche un tenente italiano a little big or